Arbitra l'incontro 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 bravo Giorgio, bravo Giorgio, bravo Giorgio bravo Giorgio guarda! ma hai visto il numero o no? aspettate di più il tempo un attimo di più poi ci muoviamo all'ultimo il secondo il secondo è deciso guarda! guarda quanto fosse detto di palloni perso le tue pari l'ha eh l'ha Grazie mille, grazie mille. Vado a venire con questo subito. Bravi, bravi, bravi. A posto, a posto. A posto, a posto. A posto, a posto, a posto. 다가 attraverte il nodo. A posto, a posto, a posto. Gl St. Oh ragazzi, oh mani, ma come fai? Oh ragazzi, oh ragazzi, oh ragazzi, oh ragazzi, bravata, 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 bravata. Well gente, oh ragazzi, ok aiutata, bravata, 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 bravata. Oh ragazzi, oh ragazzi, ok. Coraggiare, ok aiutatos, il coraggio al limite, magari estão dedicando a questa BAR. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.